Le biciclette top di gamma, sono tutte uguali? Potrei rispondere in modo molto superficiale dicendo di sì. Detto questo, nel video di oggi vi porterò all'interno di quattro brand Specialized, Trek, Pinarello e Colnago. Perché questi? Beh, è semplice perché il canale è mio e faccio un po' come cazzo mi pare, no scherzo. Ne ho presi quattro che sono quelli più rappresentativi, due italiani e due d'oltreoceano. La direzione di sviluppo dei produttori si basa prevalentemente sul regolamento dell'Unione Ciclistica Internazionale, che ha imposto dei vincoli molto stringenti sul peso. Infatti i produttori, non potendo realizzare biciclette ultraleggere e quindi renderle magari più prestazionali da questo punto di vista, devono mantenere un peso limite sotto cui non scendere mai, che è 6,8 kg. Quindi devono andare a sviluppare tutte le caratteristiche della propria bicicletta in altri termini, come ad esempio l'aerodinamicità. Tutti questi investimenti e tutta questa ricerca intorno all'aerodinamica ha fatto emergere un dato importante. I guadagni che si possono raggiungere con il perfezionamento aerodinamico di una bicicletta e del ciclista su di essa sono addirittura maggiori e più consistenti dei guadagni che si potrebbero raggiungere riducendo il peso della bicicletta. Ecco quindi spiegato perché biciclette top di gamma di diversi brand sembrano tutte uguali, perché tutti stanno rincorrendo l'efficienza aerodinamica. Quindi capite bene che a prima vista sembrano effettivamente tutte uguali. Partiamo dall'inizio, partiamo dal frontale di una bicicletta, cioè il cockpit, l'insieme manubrio e attacco manubrio, che ormai presenta caratteristiche identiche, anche se poi espresse con concetti differenti. Però tutte hanno un cablaggio interno a questi componenti e profili aerodinamici. Scendendo verso il basso troviamo la forcella, che è un altro componente aerodinamico che si è evoluto molto nel corso degli ultimi anni, che si allontanano progressivamente dal tubolare e dalla ruota, perché è stato visto che steli della forcella molto distanziati dalla ruota generano meno turbolenze. Un altro dettaglio che ritroviamo in tutte e quattro queste biciclette sono i fodri alti del carro posteriore, che sono inseriti molto in basso sul tubo, diciamo così, verticale. Questo perché? Perché sempre in galleria del vento e con la grafica computazionale si è visto che più si riduce questa altezza di innesto dei fodri, più migliore è il coefficiente aerodinamico. Non solo, più il triangolo è stretto, più si conferisce reattività alla trasmissione della potenza, ma anche, attenzione, una certa flessibilità al tubo verticale, che restituisce al ciclista un po' di comfort. Ovviamente, in questi modelli di bicicletta, il cablaggio, sempre per questioni aerodinamiche, viene completamente integrato all'interno del telaio. Un altro dettaglio che accomuna queste biciclette è la scatola del movimento centrale, che nel corso dell'evoluzione ha sempre aumentato la sua dimensione. Perché? Perché ne aumenta da una parte la rigidità, che serve per non disperdere i watt. Per ultimo, ma non per questo meno importante, ci sono le ruote. Ruote comunque in carbonio, ad alto profilo, con raggi aerodinamici, montati con copertoni che si accoppiano perfettamente con quel tipo di profilo di ruota, generalmente 28 mm, questo conferisce anche molto più comfort al ciclista, e ruote dotate di impianto frenante a disco idraulico. Tutti questi concetti e tutte queste caratteristiche si possono ritrovare in molte biciclette di altissima gamma di moltissimi brand. Ovviamente ogni produttore si avvale di know-how differenti, di tecnologie differenti, anche di concetti differenti, per raggiungere lo stesso risultato. Quindi, anche se tutti hanno il cabraggio integrato, le ruote ad alto profilo, la scatola del movimento centrale, oversize, i foderi alti inseriti molto in basso nel tubo verticale, ci sono ancora piccole differenze che contraddistinguono un brand dall'altro. e lasciatemelo dire, per fortuna. Ok, fringuelli, per oggi direi che è tutto, fatemi sapere che cosa ne pensate. Noi, come sempre, ci vediamo al prossimo video. Buona giornata, alla prossima, ciao!